A cantorata la tribolata notte elettorale, i candidati alla carica di sindaco di Campobasso rimasti in corsa si sono rigettati a pieno nella campagna per il ballottaggio del 9 giugno. Maria Domenica D'Alessandro e Roberto Gravina hanno ripreso la loro serie di incontri e se la candidata del centrodestra riceverà subito manforte dal leader del suo partito, lo staff dell'esponente Grillino sta lavorando per far approdare in città uno dei big del movimento. Intanto, come detto nel capoluogo molisano, tornerà Matteo Salvini, il ministro dell'interno, reduce dal boom di voti alle europee, sabato alle 13.30 atterrà un comizio in Piazza Pepe. I consiglieri eletti pensano intanto già all'eventualità che consentirà loro di entrare a Palazzo San Giorgio. Poiché nessuna lista o raggruppamento di liste ha ottenuto al primo turno il 50% dei voti, il nuovo sindaco porterà con sé il 60% dei seggi, cioè 20 esponenti di maggioranza. Ecco i due possibili scenari. In caso di vittoria della candidata ad Alessandro entrerebbero in suo sostegno sette esponenti dei popolari, prima forza dello schieramento, Salvatore Colagiovanni, Carla Fasolino, Gennaro Niro, Pietro Montanaro, Francesco Sanginario, Corrado Di Niro e Antonio Di Renzo. Quattro gli esponenti della Lega, Alberto Tramontano, Alessandro Pascale, Giuseppe Gianfagna e Antonio Madonna. Quattro anche i rappresentanti della lista civica Eora, Massimo Sabusco, Gianluca Marroncelli, Alessandro Grana e Gianluca Gargano. Tre gli esponenti di Forza Italia, Domenico Esposito, Michele Coralbo e Giuseppe Cimino. Due di Fratelli d'Italia, Mario Annuario e Federico Sarli. All'opposizione siederebbero, oltre a Roberto Gravina, altri quattro esponenti del Movimento 5 Stelle, Simone Cretella, Margherita Gravina, Luca Praetano e Antonio Vinciguerra. Poi Antonio Battista con gli altri Dem, Alessandra Salvatore, Bibiana Chierchia, Giuseppe Trivisonno e Stefano Ramundo. Insieme a Leo Terzano con sinistra per Campobasso e Paola Libera Nome per Io amo Campobasso, comporrebbero la minoranza. Decisamente diverso lo scenario con la vittoria di Roberto Gravina. In questo caso sarebbero 20 i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Simone Cretella, Margherita Gravina, Antonio Vinciguerra, Luca Praetano, Antonio Musto, Paola Felice, Elena Porchetti, Antonio Guglielmi, Pio Bartolomeo, Giuseppina Di Iorio, Lorenzo Sallustio, Nicola Simonetti, Sonia Gianfelice, Antonella Picone, Giuseppina Passarelli, Giovanna Falasca, Evelina D'Alessandro, Giuseppe Amorosa, Rosanna Coccagno, Walter Andreola. In minoranza da Alessandro, Colagiovanni, Fasolino, Tramontano, Pascale, Esposito, Sabusco per il centrodestra insieme ad Annuario. Per il centrosinistra invece figurerebbero Luscente, Battista, Salvatore, Chierchia e Trivisonno.